Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto registratori vocali Reloob Tape Registratore. Tape è la soluzione ideale per digitalizzare vinili e per i DJ che hanno la necessità di registrare i propri set dal vivo in modo facile e sicuro. Senza conoscenze tecniche specifiche o computer, Tape è semplice da usare. Compatto, ricco di indicatori luminosi utili per l'utilizzo in club o console poco illuminate e con capacità di storaggio praticamente illimitate, funziona in modo autonomo e salva i file direttamente, in formato MP3 su Pendrive o Hard Disk Usby. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T., clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.